La scelta di Lavinia a Uomini e Donne, Corvino criptico, lo sai, farò il panico. Si avvicina al fatidico momento della scelta finale di Lavinia Mauro a Uomini e Donne. Per la tronista la prossima registrazione del talk show potrebbe essere quella decisiva. A distanza di un po' di mesi dall'inizio della sua avventura in studio, Lavinia potrebbe svelare il nome della sua scelta finale tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. I pretendenti che sono riusciti ad arrivare a questo punto del percorso. Intanto sui social non è passata inosservata quella che sembra essere una dedica criptica da parte di Alessio Corvino. L'appuntamento con Uomini e Donne prosegue con successo su Canale 5, e si avvicina al fatidico momento delle scelte finali per i due tronisti che presenti in trasmissione dallo scorso settembre. Federico Nicotera ha già registrato il momento della sua scelta e la messa in onda e per è prevista nel corso dei prossimi giorni su Canale 5. Situazione differente per Lavinia Mauro, che fino a questo momento si ritrova ancora divisa tra Alessio Campoli e Corvino. I due pretendenti che sono riusciti ad arrivare al rush conclusivo di questo ingarbugliato percorso che l'ha vista protagonista. Tuttavia dopo la scelta di Federico non si esclude che anche per Lavinia possa giungere il momento della scelta finale. Nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e Donne, previste sabato 18 e domenica 19 marzo, l'atronista potrebbe mettere la parola e fine al suo percorso e svelare il nome del pretendente col quale intraprendere un nuovo percorso sentimentale. Una scelta che, proprio come quella di Federico, si preannuncia attesa dai fan, curiosi di scoprire cosa succederà, in attesa di scoprire cosa succederà nel corso delle registrazioni di questo weekend. A colpire in queste ore è stata la dedica social di Alessio Corvino sui social. Il giovane corteggiatore casertano ha condiviso una storia criptica citando un verso del brano Panico cantato da Lazza. Tanto lo sai, farò il panico, è il verso che si può sentire nella storia postata da Corvino sui social, la quale potrebbe nascondere un velato riferimento per l'atronista. Possibile che, in vista della scelta finale di Lavinia, Alessio Corvino abbia voluto chiedere alla ragazza di riflettere bene sul da farsi? Grazie.